A Dagnana Calabra si fatica anche a vivere per la presenza della crisi che come in tutto il resto dell'Italia si è diffusa per la presenza del coronavirus che ha provocato con confusione e ha aggravato la crisi, che la politica intervenga affinché con atti concreti a superare la crisi che ad Dagnana è presente nella tutta la Locride, senza ideologie politiche, con atti concreti per far uscire Dagnana e la Locride e Reggio Calabra, città metropolitana, dalla crisi.